Hoi cari di tutti, sono Ginius29 E ci sono anch'io, Stone Ciao ragazzi, sono Ginius29, sono dei PvP di Elseworld Siamo qua con Lane, l'ultimo che abbiamo fatto Quello là che abbiamo fatto insieme agli iscritti Ho tutte le skill messe a posto come mi avete detto voi Ancora non l'ho mai provata in PvP però E quindi li andiamo a provare Mettiamo solo 1v1 match, non ci voglio fare best of 3 Che già oggi ho fatto un torneo online di Pokémon Su Pokémon Showdown dove si vincevano 1108 dollari Tutto in best of 3 con 7 round di Svizzera Che purtroppo non sono riuscito a toppare Ho fatto 4 partite vinte e 3 partite perse Con 5 vinte e 2 perse sarei poi entrato in top 16 Per poi da lì andare avanti e proseguire verso la finale La top 4 aveva premi in denaro Purtroppo non ce l'ho fatta per via di svariati motivi In una partita ho avuto un po' di sfiga In un'altra invece ho sbagliato un 50-50 Che avrei potuto palesemente vincere Però vabbè, è la vita Trovato il PvP Vediamo un po' se faremo schifo come l'altra volta Ragazzi è inutile che dite Perdi contro i livelli 35 Ma lo sapete benissimo Ci perdo anche con l'add se riesco Cioè anche con l'esper forse perdo contro i 35 in questo server Siamo contro Hit Zero Livello 94 Chang 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 E vediamo un po' intanto se lagghiamo oppure no E le combo non le so ancora Dovrei vederle prima di fare più Avete ragione Allora tipo questa qui dovrebbe essere buona Non lo so Comunque è utile per prendere In teoria Solo che mi danno fastidio queste sue bombette Mi danno un fastidio cane Fammi fare No che è Che è qua ha laggato Il che è Oddio mio No No Basta 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 Ma vai con sta spada Ma che cosa E vabbè ma sappiamo tutti quanti Io non c'ho nulla addosso Mentre brucio tra tutte quante le cose Ho coppia Tutti i set Eccetera eccetera E qua mi tocca breccare Se no questo qua mi fa il culo Chung Non è affatto debole Allora proviamo le mosse Questa qua è buona però Non da fare qua No No Il link No ti prego Pure questo No Amico Fatemi fare una skill Posso provare una di queste skill Ce l'ho tutte quante piene Una Una te ne chiedo Le voglio fare una Questa cazzo fa Devo attaccare quando è vicino Non lo so Dai ma almeno fatti prendere Che palle Sto capendo niente ragazzi Sto veramente capendo niente Abbiamo persa eh Però Almeno fatemi provare un po' di skill Questa non colpisce Va bene GG No non posso No non posso Non posso Allora ragazzi Mi dovete dire se posso andare nell'item shop Cosa devo cercare per prendere le cose da pvp Perché non so se da camilla ad esempio Posso già prenderle Fammi andare a vedere un po' Store Bye Non posso Vediamo Si chiama sparring pendulum Lo vado a cercare nello shop Vediamo se c'è No ragazzi non lo so Non lo so se si trova qui Se no Devo fare gli api E poi comprarmeli Di api ne ho solo 36 I soldi sono messo abbastanza bene Però vorrei fare anche gli api Abbiamo trovato ragazzi Non so ma anche sul void ci si mette un pochino di tempo A cercare di trovare i pvp Già ma il prevento mi pare si è iniziato Sull'elseworld ita Il prevento di ain Quindi ragazzi mi sa che martedì Sviglio sull'elseworld ita Perché mi avevate detto che tipo Era cominciato il prevento Quindi ain trap non molto Arriverà anche sull'ita Io veramente spero che Molta più gente arrivi Questa iv qua ci fa il culo Perché è un iv questa Si è un iv E un iv ci ha levato Tre quarti di vita Con una sola mossa Skill quello che era Madonna santissima Fa provare sta skill Ma dai la voglio vedere Voglio vedere cosa fa Che palle Allora intanto avevamo detto Splinzat ZZ X No era XXX Boh non lo so com'era Che sta facendo quello là Non lo so Uè mate Che cazzo Perché mi sono trasportato qui Spieghi che stai facendo mate Cosa ho combinato Ragazzi Devo imparare Usare sto personaggio Perché Ha del potenziale Però non si applica Non è vero Sono io che non riesco A fare un cazzo Eh no Non lo so È difficilissimo È impossibile Fare i pvp così Vediamo se c'è qualche stanza Perché sono finito qua giù Vediamo se c'è qualche stanza libera Magari non facciamo Uno più uno Che almeno evitiamo di fare Figure del cazzo Vediamo qua Sparling Nada 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 Nemmeno qui Ragazzi Nemmeno qui Sì me ne voglio andare Eh direi di fare più normale Faccio un po' di più Mi servono gli api Mi servono Devo prendere api Perché quelli non penso Possa comprarli da qualche parte Pronti a prendere mazzate Per la sesta volta di fila Contando anche quelle dell'altra volta Dai Non uscirò mai a vincere un pvp Sul void ragazzi Veramente Secondo me no 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 ragazzi No No È un elseworld O un elesis È un elseworld questo Non potete No questo è un elesis Devo riconoscerlo dalle spade Mi avete detto Eh ma io non lo so No la spada mi sembra di elseworld però La spada quella lì è di elseworld È gigante Sì questo è un elseworld Non è un elesis Non può essere un elesis Perché sono girato Mi giro pure dal lato sbagliato Non può essere un elesis questo Ma stavo facendo quella schif Sì vabbè Qua continuiamo a colpirci E lui ovviamente c'è sempre il sopravvento E ci ammazza È gigi proprio Ti piace vincere facile Ponsi ponzi Madonna veramente Fanno troppo male questi Troppo Un solo sul livello 99 Fanno malissimo Quanti appiccio 122 Qualcosa posso comprarla finalmente Posso comprarmi Come non posso prenderla Che mi manca 134.000 monete ce l'ho Perché non posso comprarla C'ho 5 milioni Non è che c'ho l'inventario pieno Ehehehe Ehehehe E quando mai Allora facciamo una cosa Vendiamo un po' di merde Compriamoci quest'arma Perfetto Almeno qualcosa ce l'abbiamo Dovevo farlo off camera questo Però dai ragazzi Era l'ultima settimana di scuola Adesso che siamo in estate Posso fare quello che mi pare Quindi Proverò a fare qualcosa In più Ma nell'Hell's World Void Dovete darmi una mano Perché Non so un cazzo su Aene Non ho le cose che c'avevo Nell'Hell's World E tra di là E anzi Io spero ovviamente Di non starci troppo sul Void E di tornare al più presto Sull'Ita Sperando che Aene arrivi E che più gente Giochi Così almeno posso tornare Anche a usare il Diabolic Asper Senza problemi Trovando qualcuno La prossima settimana Ragazzi Vi porto PvP Con l'Hell's World Dita Basta Void Poi si vede Se ci si ritorna Lo lascio installato Ovviamente Per Aene Perché Rifarmi Aene Da capo Sull'Hell's World Dita Spero facciano un jump up Così almeno Ce l'ho A livello uguale Però poi devo fare La trascendenza E il classaggio E tutto quanto Quindi boh Vediamo Abbiamo trovato E qua c'è qualcuno Che sta facendo Dei gemiti Pazzeschi Sembrava un porno Che cacchio era Ok Vabbè che poi abbiamo Rena pure con ste bocce Qui davanti Ogni volta E Raven di là La schermata è uguale Yumeru 98 Ed è un'arena Allora Salto ZZZX Cos'è Ok così Vabbè non è matto Ah poi No Se riesco a farla Voglio fare una cosa figa Che mi avete detto Ti fa male Però non riuscirò mai a farla Eh sì Eh Yes Sì eh Non ho sbagliato Devo fare con la X Madonna Ma è spastico No Ma come cazzo è Il salto schiaccio Voglio fare Ma che io manco Li tocco questi Mi fanno il culo Ragà Non è possibile Non è veramente Possibile Fare più Come cazzo faccio Sti PvP Due secondi durano Manca un colpo Gli ho tirato Un minuto In gen La media è sempre un minuto Quella che ti viene scritta Sul Nell'attesa del PvP È quella Mi ha detto un minuto e mezzo In un minuto e cinque L'abbiamo trovato Chi abbiamo trovato In una rosa livello 98 Ma che bella cosa Non c'è Più bella cosa di rosa Perché Perché è cascata Vabbè Faccio cascare tutte le donne Ai miei piedi No non è vero un cazzo Rosettina Cos'è quella roba Che ti fa recuperare HP No 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 C'è il buff C'è il buff Non so cos'è È un accessorio Per forza Ci fa il culo No raga Guarda quanta vita Mi ha levato Non posso competere Veramente Basta È inutile Manco Due skill Ho provato In cpu Due Due di numero Qua faccio 10% A volta A perderle Non so che rank Mi darà Mi darà Tipo D Mi darà Però direi di fermarci Perché così Non si può andare avanti Non durano un cazzo Sti pvp La gente O è troppo sgrava O io faccio cagare E quello lo si sa Non c'ho niente addosso Eeeh Ma Questo è Io anche se riuscissi a giocare Non riesco Sono troppo veloci Rispetto a me Comunque Per questo è tutto Datemi consigli Speriamo Ditemi se nell'esworld Hanno messo sto prevento Così almeno Torno lì Martedì ci facciamo un video E Passerà il link in descrizione Ciao ragazzi Ciao sono voce parlante di quest'outro Clicca sopra il nostro logo Per iscriverti al canale E se vuoi vedere i nostri video precedenti Clicca uno dei due video Che trovi sulla tua sinistra E buona permanenza sul canale Ciao